Prova di registrazione video con Oppo F1 Plus, fotocamera posteriore da 13 megapixel, 1080p la registrazione massima a cui si può arrivare che stiamo usando in questo momento. Facciamo da prima il pan veloce, poi il pan lento, vedete, contro sole, zona più in ombra, sostanza veloce a cambiare la luminosità e andiamo adesso a mettere in macro. Che si può aiutare con un TAP. Spostiamoci un pochettino per vedere come stabilizza, sempre bisogna mettere a fuoco tramite TAP. E andiamo adesso in una zona più in ombra, qui all'interno, per vedere come si comporta in condizioni peggiori di luminosità. Ecco qui, spostiamoci nuovamente verso l'esterno, un altro cambio di luminosità veloce e andiamo a fare uno zoom che arriva fino a 4x. Qui un altro TAP per rimettere a fuoco. Come vedete i dettagli non sono il massimo con lo zoom. Torniamo indietro e direi che per questa videoprova con Oppo F1 Plus è tutto. Andate a vedere la recensione che è online sul nostro canale di YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Alberto per Tondroid.net